Buonasera a tutti gli spettatori, siamo qua a Pierangelo Garzia e il professor Soresi a parlarvi di come ringiovanire invecchiando questo volumone che abbiamo realizzato prima che esplodesse tutta la problematica del covid e il sottotitolo tra l'altro dice segreti di medici, fisioterapisti, nutrizionisti e studiosi per una vita più lunga e più sana. Cioè abbiamo pensato di chiamare raccolta tutta una serie di specialisti con i quali tu eri in contatto per realizzare questo testo che è una specie di bibbia che conduce al benessere, alla salute e alla prevenzione delle patologie. Sì, praticamente è un compendio che si avvale di tutti i colleghi a cui io mando i pazienti quando ho problematiche che si riferiscono alla loro esperienza. Dall'oncologo all'anatropatologo, al nutrizionista, al fisiopatologo, al fisioterapista, quindi tutta una serie di interventi interessanti che sviluppano il tema, diciamo, della medicina vista alla luce proprio di un anti-aging e quindi di una prevenzione corretta per far invecchiare il meno possibile e il più tardi possibile. Riassumo brevemente la mia storia per chi non fosse presente ieri. Io sono entrato all'ospedale di guarda come aranatropatologo prendendo la specialità in quel settore nel 65, dopo 5 anni di specialità e di lavoro con autopsie e con esami istopatologici. Tra l'altro in quegli anni, nel 68, io ho vissuto proprio da patologo l'esperienza dell'epidemia di Hong Kong e ho scritto recentemente sul nostro blog un articolo in quanto comparavo l'epidemia di Hong Kong al Covid-19. Ma qual era la differenza? Che nell'epidemia dell'influenza di Hong Kong nel 68 morivano di polmonite batterica, quindi tutte le direnie inducevano l'immunosoppressione che favorivano la polmonite batterica nei pazienti immunodeferati, anziani, neoplastici, eccetera, eccetera. Ma in realtà qual è stato l'errore di quel periodo? L'insufficienza terapeutica dell'uso degli antibiotici. Io lo scoprì proprio vedendo nel protocollo dell'unità coronarica, dove mio padre fu ricoverato di infarto a 67 anni, che nel protocollo si prevedevano 2 grammi di amoxacillina per le polmonite. E mio padre purtroppo morì di polmonite nell'unità coronarica. Quindi tutte le morti per polmonite erano molto spesso legate a un'insufficienza terapeutica. Calcolate che negli anni 80 io avevo dei protocolli per le polmonite in pazienti defedati con 3 antibiotici. Quindi cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo che c'è un'aniguata terapia cortisonica verso un virus che dà infiammazione. Ma ne parleremo più avanti dopo che avrò sviluppato il tema dell'infiammazione e dell'infiammazione sistica. Facciamo un piccolo inciso, quindi tu vieni da Aniguarda, da un'attività clinica all'interno di uno dei più importanti ospedali italiani, e non solo, a contatto con pazienti molto gravi. Da lì hai sviluppato una visione anche sulla prevenzione. Ma io ho sviluppato la cosa fascinante del mio periodo, quindi io nel 70 passo in pneumologia, e avevo già la specialità presa prima di entrare a Aniguarda come patologo, con il professor Dandi, mi ricordo, e in pneumologia mi trovai l'impatto con 80 letti di cui la prevalenza sono occupati da malati neoplastici. Per cui mi vengi oncologo presi la specialità di oncologia clinica a Torino e sviluppai per 30 anni l'oncopneumologia. E che cosa mi ha illuminato e mi ha portato a scrivere poi il cervello anartico? Tuo primo libro. Esatto, un tumore particolare che ha struttura neuroendocrina. Qual era la caratteristica di questo tumore? Che potevano arrivare pazienti con una malattia autoimmune, una malattia infiammatoria, una malattia neurologica, e io scoprivo dopo che avevano un tumore neuroendocrino polmonare di un centimetro. Quindi che cosa ho capito 30 anni dopo? Che quelle cellule neuroendocrine, che erano cellule impassite, bombardavano i neurotrasmettitori dell'organismo e favorivano tutte le malattie. Quindi tutto, diciamo, il tentativo di capire allora i vari marchi, eccetera, in realtà l'ho capito 30 anni dopo. Quello per te è stato un modello? È stato un modello. Così come è stato un modello dei fumatori, diciamo, cronici. Certo, e quindi allora in quel periodo io ho sviluppato tutto un percorso di carattere terapeutico, protocolli, medicina basata sull'evidenza, eccetera, però mi cominciai ad aprire alla medicina integrata con un affascinante, diciamo, episodio, perché io ho dimisi, mi ricordo nel 75, un paziente di 60 anni che aveva un tumore polmonare calcolato una palla di 10 centimetri di diametro inoperabile. Rifiutò la chemioterapia, noi fummi i primi nel 70, allora gli pneumologi erano due o tre in Italia, i fummi i primi in pneumologia a fare protocolli di chemioterapia allora anedotica rispetto all'attuale, molto più soft. Ciò nonostante con quattro farmaci chemioterapici non aggressivi io vedevo scomparire tumori neuroendocrini. Qual era il problema? Che ricomparivano metastole in alta sede. Perché? Proprio perché, come vedrete dopo, il sistema neuroendocrino è un sistema ubiquitario, cioè queste cellule sono ovunque e si attivano quando là si fanno attivare per problemi locali di necessità. Quindi, tornando al discorso del paziente che dimisi, questo qui rifiutò di fare chemioterapia. No, non dissi niente, era anche piuttosto scontese con il personaggio. Dopo tre mesi ricomparve con una lastra e mi chiese se avevo tempo e voglia di vederla. Io misi la lastra sul diafranoscopio e mi dì che la palla si era ridotta del 50%. Allora gli chiesi, ma lei ha fatto chemioterapia? Dice no, no. E ha tirato fuori una scatoletta. La scatoletta era viscum quercus cum HG, della veleda, quindi un prodotto omeopatico, in realtà non è omeopatico perché ha concentrazioni crescenti, che è un estratto di vischio. Di vischio. A questo punto andai... Pianta che fin dall'antichità viene identificata... A questo punto mi fiondai, mi fiondai da un medico meopata che era in corso del ceglio, un anziano, un anziano personaggio antroposofo, professor Buongiorno, che aveva 80 anni, che in realtà aveva una cultura affascinante, per cui mi spiegò tante cose che io dimenticai. Però da allora io feci in vischio, diciamo, un modello di azione in terapia adiuvanti, in terapia di supporto, in terapia di contenimento durante la chiesa. E in quel momento ti sei aperto a una medicina diversa, che anche se il paziente va incontro a conseguenze gravi, tipo tumori, eccetera, cercare di sostenerlo, di supportarlo nelle cure più pesanti e soprattutto cercare, per quanto si può, di prevenire le conseguenze più gravi. Non è un caso che qua ci si parla anche naturalmente di come trattare i tumori, come possono essere... Certo, qui abbiamo due capitoli interessanti sul nostro ultimo libro. Uno riguarda proprio l'oncologia, come oggi terapeuticamente la si affronta, l'ha scritto dal dottor Claudio Veruzio, carissimo amico, capo dipartimento, ospedale di Saronno, con cui io mi interfaccio da quando sono uscito da mi guarda, e quindi gli appoggio pazienti oncologici. L'altro capitolo interessante va invece nella direzione assolutamente di medicina integrata. Sono quattro pagine scritte dal professor Gascon, che è un medico spagnolo, che da vent'anni lavora con i funghi affiancato alla crioterapia. Lui usa i funghi dell'Aifas de Terra e nel mio libro c'è un bel capitolo. Ecco, ma vuoi dare una definizione di medicina integrata? Cosa intendi tu oggi per medicina integrata? Praticamente è la possibilità di integrare tutto ciò che di ortodosso scientificamente è valido e validabile, quindi gli altri di estratti fitoterapici, ne parleremo, ne abbiamo parlato ieri. Allora, la berberina funziona, funziona nella disepidemia, funziona nell'agricazione, ma funziona che cosa? Funziona un estratto titolato, filtrato, eccetera, eccetera, che diventa a tutti gli effetti l'equivalente di un fatto. Quindi quantificabile come può essere un fatto. Io parlo, per esempio, molto in questo libro e nei vent'anni, dieci anni, che sostengo questo Pelargonium Sidoides, perché è affascinante, perché il Pelargonium Sidoides è un estratto di un fiore sudafricano. Il famoso caloba. Il famoso caloba, con cui nel 1900 curava la tubercolosi. Ma perché curava la tubercolosi? Perché è un potente attivatore del macrofago, quindi è utile anche contro il Covid. E andando avanti vedremo adesso un momentino i percorsi di sistemi. Che mi hanno portato. Quindi, come vi dicevo, io ho fatto 30 anni e non comprimoro. Nel 98 mi sono dimesso, perché avevo 40 anni in servizio, e tutto sommato ho voglia di altre cose. Grazie all'amicizia con Garimberti, che mi ha stimolato, ho scritto il cervello anarchico, che sviluppa tutto il tema dell'apnea, che deriva tutta dall'esperienza del microcitoma, small cell lung cancer, tumore neuroendocrino. E deriva poi dall'esperienza post-progressiva, che io ho avuto come consulente ai tumori, dove per esempio vivi il primo danno intestiziale, cioè il Covid è dalla polmonite infiammatoria. Che cos'è la polmonite infiammatoria? Vedrete dopo la mia attacca. Non è altro che un danno intestiziale, cioè del tessuto polmonare, caratterizzato da bombardamento di citochini infiammatori. Che poi tu hai provato su te stesso, perché ti sei parlato purtroppo anche tu, e mi sono guarito proprio perché avevo lavorato, grazie agli AGES, che prenderemo dopo, all'infermazione sistemica. Quindi in sostanza... Anche dalla nutrizione, di attività fisica moderata e così. Quindi negli anni Ottanti, io vado consulente ai tumori, e c'era una giovane donna di 30 anni, irradiata per un linfoma, quindi irradiata al mediastino, guarita perfettamente, che all'istituto curava l'operazione. In realtà aveva un danno intestiziale, in quanto come fumatrice la radioterapia aveva scatenato l'infiammazione, l'infiammazione aveva creato bombardamento di citochine fluorogene, che vedremo, in teorechina 1, in teorechina 6, di NF-alfa, e questo bombardamento ha bandeggiato il tessuto polmonare. Esattamente quello che sta venendo. Anche a livello pubblico, il termine di citochine. Certo, adesso tutti sanno cos'è l'interochina 6, l'anticorpo monoclonale. La tempesta di citochine. In realtà tutte queste scoperte sono state progressive, non sono state così ampie nella comunicazione ai medici. Mentre chi è veramente andato avanti nella comunicazione ai medici è tutta la terapia biologica. Noi vedremo la magia di due anticorpi monoclonali che curano nella no. Ne parlerò più avanti. Quindi, in sostanza, questi sono i libri che ho scritto. Ieri abbiamo parlato del mitocondo. Morire con la medicina integrata è un libro che abbiamo scritto con Rosati e con Garzia e sviluppa proprio un tema che io ho seguito per otto anni. È la storia di un ragazzo che a 36 anni si ammalò di tumore della pleura, poi agli usi due anni, grazie a un'azione chimioterapica, un intervento di chirurgia radicale, un intervento di pleuretomia, pneumonectomia, radioterapia e poi tutta una serie di interventi come andare in Germania a fare vaccini con cellule dentritiche, fu l'unico caso di chimioterapia che feci fare attraverso la terapia polmonare a Francoforte. Comunque, questo qui è vissuto otto anni, grazie a tutta una serie di azioni che hanno potuto favorire un benessere buono perché, in sostanza, è morto dopo otto anni ma con un mese solo di sofferenza e di Cacchessia. Pricendo a sistemare tutte le attività. Ed è interessante che fu proprio grazie a questo ragazzo che io nel libro chiamo Ulisse come levare a Cheo per la sua alta residenza nel convivere con una malattia mortale, fu proprio grazie a questo ragazzo che io feci il viaggio. E vi racconterò dopo. Che cosa sono il viaggio? Certo. Quindi, andando avanti, il cervello anarchico, vi ho accennato, sviluppa tutto il tema del pnei e ringiovanire il libro di cui parliamo adesso. Per capire qualcosa oggi, anche a livello divulgativo, non è necessario essere medici per capire come funziona la cellula. E quando ho questo bellissimo libro di Wolpert della vita segreta delle cellule, Wolpert sostiene che la biologia della cellula è il futuro della medicina. E tutta la conferenza di oggi sarà in quella direzione. Quindi perché? Perché le cellule parlano. Allora, adesso che cosa? Allora, adesso è l'inguale cellulare. Quindi voi pensate, alla prima cellula in un ambiente. Questa cellula comincia a parlare con l'ambiente. Quindi scambio di proteine, scambio di formazione, scambio di sali. A un certo punto, tanto parlava che scoppiava. E quindi si è aggregata. E quindi sono state due cellule. Cioè due cellule si sono arrivati all'homo sapiens. In tutto questo percorso evolutivo è successo di tutto. È dato il sistema immunitario, ci sono inseriti i mitocondri, c'è il microbiota intestinale. Quindi pensate a un'evoluzione che arriva a noi attraverso un percorso evolutivo complesso. Perché vediamo quindi quello che vedete qui è che la membrana cellulare praticamente sono 144 tipi diversi di cellule, 600 tipi di recettore, 1800 tipi di ligandi, neurotrasmettitori, peptidi, ormoni, citochine, cortisone, di tutto. Quindi pensate a questo mondo di informazione, a questi milioni di cellule che parlano e a come la salute deve essere legata alla buona comunicazione delle cellule. Il corpo ha informazione. C'è fondamentalmente. Capito questo, faccio vedere un esempio bellissimo. Un giorno ero all'università statale e in cui c'era una bellissima nazionale neurologo e gli studenti e che cosa ho beccato? Ho beccato questa bellissima fotografia microscopio elettronico in cui vedete un neurone che sta producendo un neuropeptide che è la beta endorfina e chi lo riceve è un altro neurone che ha il recettore in periferia. Vedete queste piccole vescicole e il recettore. Quindi, se voi pensate a una produzione di una cellula e all'altra cellula che lo riceve ci sono 600 recettori di 1800. Quindi sarebbe un caos. Qual è il trucco? Che quel recettore diventa specifico quando arriva a quel tipo di comunicazione. E questo recettore sapete dove è stato trovato dalla Candacepert? In un protozoo, il tetraidena che è di milioni di anni fa. Quindi nell'evoluzione è rimasto fino a noi perché è talmente perfetto che continua a esserci perché continua a far parlare alle cellule. È un po' come l'ombrello. L'ombrello non l'abbiamo mai cambiato. E questo non sarà mai cambiato. Perché funziona così. E guardate il sistema delle rette endorfine come è fondamentale nella nostra salute. Che è associata a fame, emozioni, dolore, curi materni, tutto. Quindi se uno nasce con la sfortuna di avere una cattiva produzione di endorfine e vedremo alla fine come avviene la produzione, come viene costruito il cervello, a questo punto ha già un deficit di tante proteine. Quindi vive già male. Il depresso vive già male, può essere geneticamente depresso, può essere già con un difetto di produzione di endorfine. Quindi quello che vi dicevo prima attraverso il microcintoma pulmonare che è un tumore neuroendocrino ho messo a fuoco ma lentamente ci ho messo tanti anni a capire la sintesi di questa realtà. Quindi il sistema neuroendocrino è un sistema ubiquitario che sono cellule che producono hormoni, citochine, di tutto, neuropeptidi e hanno i recettori. Quindi anche loro parlano fra di loro ma parlano con le cellule immunitarie. Questi due sistemi con chi parlano per strutture emotive profonde del cervello. Ecco l'apnea. La psico-neuroendocrino è proprio legata a questo sistema di colloquio in cui l'emozione attiva o disattiva determinate informazioni. Quindi questi sistemi in effetti tra loro sono collegati. Fondamentali. E' il loro collegamento che ci consente di vivere che si diceva rapporto mente-corpo psiche-corpo assolutamente conformato tra una base nella psico-neuroendocrino e non immunologia. Esatto. Che a mio avviso in medicina non è ancora stata ben capita perché non è semplice da capire bisogna arrivare da di dentro bisogna amarle bisogna approfondire tutti i tipi. Infatti da alcuni è anche pure criticata proprio di questo. Sì, perché è diventato un overdose di informazione in realtà è la base di tutto. Qui vi parlo delle citochine quindi all'interno di tutte le comunicazioni vi ho detto vi sono le citochine. Le citochine progressivamente scoperte la prima citochina fu scoperta nel 68 siamo tutt'oggi a 36 interleuchine identificate tra i interferon N i fattori di crescita e il tumor necrosifatto. Quindi tutto questo mondo di citochine è importantissimo perché è quello che consente le comunicazioni. Entra in gioco molto nell'infiammazione. E qua giorgi che è già presente come dicevo prima evo-devo cosa vuol dire l'aerecettore milioni di anni fa nel tetraimeno l'ideolochina è già presente nei monoschi quindi tutto questo mondo è una base della vita un mondo biologico che si costruisce progressivamente diventa sempre più affascinante quello che appunto dicevamo anche ieri che poi una parte del mondo esterno è dentro di noi e viceversa con i mitocondri e noi siamo anche arrivati alla fine noi siamo dei simbionti che riteniamo ad ospitare i batteri da te a te a te a te a te a te a te assolutamente dobbiamo far star bene loro per star bene noi l'icobiota sta esplodendo questo è un bel messaggio è così ecco qui ecco l'incendio quando arriva il covid che cosa fa? scatena le interleuchine il covid così come altre malattie infiamatorie la sua si forma virale ma poi in generale la reumatologia piuttosto che in altre faccio vedere in due casi clinici senza covid molto esaurienti quindi vedete l'interleuchina 1 l'interleuchina 6 TNF alta è il trio che induce infiammazione i vecchi docenti di medicina mi ricordo anche a miei tempi davano l'infiammazione fin dall'antichità come la base un po' di tutte le malattie se volete approfondire questo tema c'è un bellissimo libro scritto da Mantovani immunologo direttore scientifico dell'Humanitas il fuoco interno che è proprio la definizione è un libro bellissimo perché spiega ma bene in modo divulgativo tutto questo percorso dell'infiammazione il ruolo dell'infiammazione quindi andiamo avanti e qui due casi clinici molto paradigmatici aveva una donna in servizio una donna di 60 anni tra l'altro in sovrappeso con le gambe anche un po' storte ma è un giorno di malattia a un certo punto ginocchio gonfio caldo dolente rosso quindi grossa infiammazione che si era accesa nell'articolazione del ginocchio perché? perché 15 giorni prima il figlio aveva detto che sarebbe andato in Messica a fare il cameriere quindi stress familiare il potente stress ha creato un bombardamento di citochine partite da dove? e qui è la nomità partita dalle cellule della ghia cerebrale note come cellule della microglia quindi sono cellule immunitarie a tutti gli effetti equivalenti alle macrofagie e quindi loro producono citochine quindi se tu sei stressato loro si attivano liberi citochine e vanno a colpire che cosa? l'orbano bersaglio quando io feci la lastra questa aveva una grave artrosi che non si era mai accesa il bombardamento infiammatorio locale che avrebbe dovuto essere un fatto di riparazione transitoria in realtà diventava un fatto di malattia cronica per cui è stata operata e regolata l'altro caso ancora più interessante e intrigante è una mia amica a 52 anni che aveva tante bronchiettasie quello che vedete è un taglio tac è un taglio tac in cui ci sono tante dilattazioni dei bronchi quelle dilattazioni raccolgono catavo e raccolgono infezioni queste sono le neurogettasie queste ne arriva tante benissimo tra l'altro si vedono da poco così bene grazie all'attacca si chiede senza contrasto perché si autocontrastano morale questa faceva degli episodi infettivi un paio all'anno io riuscivo a gestire la casa con terapia antibiotica tutto bene a un certo punto bombardamento di infezione per cui la devo ricoverarla ricoverla in onda di antibiotici riesco a guarirlo e cosa viene fuori che niente il matrimonio andava male stress profondo da un po' di mesi e quindi bombardamento di infezione la dimettono la vedo per due anni la chiamo a casa e dico Francesca come stai benissimo mi sono separato e vado in chiesa tutte le mattine quindi l'assetto psichico di tranquillità ha creato un non più bombardamento di citochine e per cui le bronchiettasi a quel punto sono diventate il no d'altra parte io racconto di un mio psicologo amico un psicologo mio amico ma che non ero il suo medico un giorno mi chiama Enzo io ho sputato sangue cosa faccio fare un attacco morale questo aveva tutto il lobo inferiore destro pieno di bronchiettasi non si ammalava mai perché giocava a tennis due volte alla settimana quindi torniamo al nostro amico di turma quindi vedete come lo stile quindi lo stato mentale non un singolo pensiero ma lo stato un telecronico di stress induce delle modificazioni organiche e biochimiche che poi si ripercuotano al psicologo e oggi ma è colpire l'organo bersaglio guarda il reflusso esotagio è orientata la malattia del secco i tempi nostri parlavano soltanto dell'ulcera gastrica il gastrite del foco ecco io sono stato l'antissignano del reflusso esotagio quando ho dato l'anatomia umana normale ero stressato mi ballonavo e mi appareceva un po' di gastrite da stress in realtà è un reflusso antelitra per la diagnosi e degli ultimi anni quindi tecniche di rilassamento di mindfulness o comunque di fughe diciamo dallo stress quotidiano sono molto importanti per mantenere queste omeostasi di cui si parlava fin dai tempi mi ricordi che io ho fatto vedere l'equilibrio tra la mente e il corpo ho fatto vedere la mia positiva in cui io gioco a tennis quindi il tennis mi ha difeso proprio da una condizione di sofferenza da stress perché? perché e comunque lo facevo con intelligenza è un gioco sempre di doppio ma è stressogeno mi hai portato oggi un articolo in cui il mitocondio in chi fa un'attività fisica eccessiva va in tilt è uscito addirittura sul metabolismo e sul nature quindi per dirvi quanto è importante tutto in maniera intelligente ecco nell'era attuale noi diamo molta importanza e predominanza alla testa e al cervello cioè dimenticandoci del resto del corpo occorre un equilibrio tra queste due cose assolutamente c'è un bellissimo capitoletto scritto da Ivan Martani che è un mio caro amico che è un body worker un massaggiatore e lui lavora sul corpo e cerca di liberare le emozioni dal corpo c'è la psicoterapia anche il body c'è la psicoterapia energetica che era nei tempi di Reicher un allievo americano che sviluppò tutto il tema della psicoterapia energetica proprio per liberare il corpo da sofferenze d'altra parte c'è una ricercatrice inglese la Garfincher che nel Sussex studia i riduci dell'Afghanistan e che cosa vede che la sofferenza è legata all'organo quindi praticamente negli organi rimane la memoria del trauma quindi anche se il contesto li accoglie e tutto funziona bene il famoso stress post-traumatico si radica all'interno chiaramente leggo questa bellissima ricerca e viene da me tra l'altro una collega di 56 anni che aveva 140 di frequenza ormai da due mesi quindi la situazione del covid l'aveva stressata e questa era andata in una memoria di sofferenze in realtà scavando aveva fatto 15 anni psicoterapia quindi sotto c'era tutto un altro mondo di sofferenza molto più antico e adesso fermiamoci un attimo sul sistema immunitario che è il momento diciamo su cui stiamo tutti quanti cercando di capire qualcosa soprattutto cercando di capire se il vaccino ci aiuta o no quindi che cosa comprende l'immunità innata che rappresenta il 95% delle nostre difese su cui non c'è un marker con l'amico immunologo Alberto Beretta spesso l'ho provocato dicendo ma c'è un marker che mi fa capire che tipo di immunità innata possa avere io no non esiste perché è troppo complessa quindi qual è il gioco da giocare diciamo Antomani vaccinarsi se si è diciamo sopra i 50 anni e mi faccio il vaccino per la polmonite potenzio l'immunità innata perché i bambini non si ammalano perché hanno tutta una serie di vaccini e in più hanno tutto l'allattamento con il latte materno con la famosa lato ferrino tutto questo potenzia l'immunità innata cos'altro potenzia l'immunità innata una buona attività fisica e una buona alimentazione ma si parte da lontano poi come vedremo alla fine sulla costruzione dell'immunità innata l'immunità innata l'immunità innata invece è esattamente quello che avviene nella fase 2 il covid entra e scatena l'immunità innata e quindi scatena una tempesta di citochine infiammatorie l'immunità adattativa è la fase 2 in cui il beta-lifocita produce anticorpi per cercare di far fuori il virus questo avviene sempre quando faccio il vaccino quando faccio il vaccino educa il sistema immunitario di l'infocita a mettere in memoria anticorpi come se lo allenassi come se lo allenassi quando entra il virus quindi possiamo trarre anche degli aspetti positivi da questa vicenda cioè perché il covid diventa anche questo un caso in cui possiamo capire molte cose rispetto a come funziona l'organismo soprattutto il sistema immunitario e il ruolo dell'infiammazione queste qui sono pensiamo nell'immunità innata i due capisaldi dell'immunità innata sono la cellula di natural killer quindi calcolate che tutti i giorni nel nostro organismo ricordo una bellissima lezione di Marmont che è un immunologo genovese bravissimo affascinante grande conversatore che viene a riguarda negli anni 80 fece una lezione bellissima in cui ci disse che ogni giorno nel nostro organismo milioni di cellule tumorali vengono fatte fuori dalla cellula natural killer e perché la fa fuori? cioè noi produciamo cellule tumorali che vengono di cui non ci accorgiamo neanche ogni giorno c'è un controllo automatico del nostro organismo che elimina cellule tumorali pulisce perché le elimina? perché sulla cellula tumorale c'è una proteina che è la PDAL1 che viene interpretata dall'infocita come un elemento che dice io questa cellula devo far fuori quindi grazie a quella proteina quando poi invece l'organismo non è in grado di fare questo purtroppo ma che cosa succede? la cellula tumorale cambia proteina quindi qual è la grande novità in oncologia affascinante? che è stato prima Ellison un americano che ha scoperto che nella cellula tumorale c'è una proteina diversa e quindi ha identificato ha fatto costruire un anticorpo che la elimina eliminando quella proteina la cellula natural killer riconosce di no la cellula tumorale ma l'altra cosa geniale fu di un giapponese quindi tutti e due sono stati due premi Nobel simultaneamente il giapponese cosa ha scoperto? che nel t-linfocita quindi nel t-linfocita natural killer c'è un fredo c'è un fredo che è legato a un controllo nell'evoluzione perché il sistema immunitario deve avere un fredo e sarà il rischio un eccesso di ridondanze e quindi si va dai malattie ottimali per cui ci sono due anticorpi in circolazione ormai da anni con cui si guarisce il melanoma con questi due anticorpi io do la possibilità antilfocita di riconoscere la cellula tumorale e nel contempo do all'infocita la possibilità di lavorare la malattia che poteva essere mortale fino a qualche anno fa e che oggi può essere mortale ho visto un paziente tre anni fa pieno di metastasi praticamente era la serie boglugina tirato fuori al volo all'Humanitas con un intervento sulla metastasi intestinale mandato ai tumori dopo sei mesi era in revisione complessa melanoma un melanoma in revisione complessa dopo sei mesi melanoma che era stato operato il nome anni fa faceva sì sì mentre in versi si parla di una remissione completa già a cinque anni non si parla di varigione sempre per l'attenzione però concretamente queste sono due bombe terapeutiche biologiche vedete dirette a un colloquio qui c'è anche il comore per il cinema no? full metal jack di Kubrick Born to kill questo è l'altro grande capitolo di un'opera perché il macrofo è proprio la cellula più omologa perché? perché gira come uno spazzino quindi quando vi identifico un virus batterio sapete cosa fa? fa un brasto respiratorio produce candeggina che tramortisce le cellule e poi si immola si distende sul virus e il suo DNA distrugge il virus qui esce tutto il tuo entusiasmo per la biologia 100 milioni di macrofoni ogni giorno morono per tenerci puliti guardate questo qui si sa che come scrafi in un polmone del fumatore per quanto si è visto un polmone sano non a Milano e un polmone del fumatore quindi pensate il macrofogo che fatica a fare tu dici sempre che un polmone così a Milano non esiste non esiste perché con l'inquinamento e tutto il resto anche se non fumiamo la sigaretta siamo comunque inquinati poi ci fumiamo sopra ancora peggio quindi perché io amo il macrofogo e amo il pelargonimo perché il pelargonimo cioè non ami solo il mitocondrio ami anche il macrofogo il macrofogo viene attivato dal pelargonosidoides è famoso ma perché lo so perché io a 5 anni giocavo con i bacini di cocco mio figlio di un tisiologo e quindi mio padre portava a casare l'aste eccetera perché quella mia umilità innata è stata potenziata da tutte queste contaminazioni e il macrofogo che cosa fa con il bacino di cocco blocca calcolate che su 10 milioni di 8 milioni di umani di Homo sapiens 2 miliardi 2 miliardi sono contagiati il bacino di cocco e 10 milioni si ammalano quindi che cosa controlla su 2 miliardi 10 milioni si ammalano quindi che cosa controlla tutto l'inquinità innata chi proprio che congloba il bacino di cocco io chiedo certe volte la tacca a pazienti anziani posso vedere delle calcificazioni e dentro ci sono bacini di cocco e questa è l'immunità datativa l'immunità datativa quindi guardate cosa succede io nel 66 con un giovane immunologo Giovanni Bernizi purtroppo scomparso da pochi anni e entusiasta facevamo questa cosa pigliavamo un po' di sangue dei malati di tumore polmonare il sopradattante era pieno di linfociti pigliavamo un po' di quel sopradattante lo mettevamo in terrena di cultura poi aggiungeranno un po' di estratto di fagiolo che è un antigene e a sinistra voi vedete il linfocita colorato con una tossilinosina con un nucleo scuro praticamente non vedete il citoplasma dopo 48 ore di incubazione il linfocita riconosceva l'antigene del fagiolo e diventava un blasto l'indice dei blasti mi dava la capacità di lavoro dell'immunità adattativa si chiama proprio test di blastizzazione se io devo fare un'immunosoppressione per far tollerare un organo troppiantato devo azzerare la blastizzazione ma che cosa succede durante la blastizzazione? e qui lo scoprì Blalock questo grande ricercatore americano succede che durante la blastizzazione si producono tutti gli ormoni ipofisari quindi quando voi fate un vaccino non solo avete la risposta dell'immunità adattativa contro gli anticorpi ma vi fate anche vi mettete a bagno di ormoni perché i bambini che avevano 39 di febbre i nostri nonni la chiamavano la febbre di crescenza perché se tu hai una miremia 39 di febbre per 6 giorni libero una quantità enorme di GH sembra la pubblicità migliore per un vaccino certo infatti se io da bambino invece che farmi il testosterone per farmi crescere e adesso ho lasciato con febbre a 39 per dire lì e probabilmente avrei avuto una crescita migliore della mia attuale quindi quando in sostanza che cosa vuol dire che la febbre non è un fenomeno negativo la febbre è l'espressione di un momento infiammatorio in cui stiamo producendo anticorpi ma contenuta certo con piccole dosi della famosa tachipirina ma non sopprimerla ma non sopprimerla perché la liberazione di febbre sottintende un'attività proprio blastica quindi tutto questo mondo che abbiamo riassunto è la nascita dell'apnei qui siamo nel 95 pochi anni fa una scienza giovanissima perché non è molto accettata dai medici perché non si può intervenire si può intervenire solo con uno stile di vita ecco quindi il convegno di Rimberti perché è importante perché è importante su questa filosofia più io ho uno stile di vita adeguato più lavoro sull'apnei ed ho benessere nel mio organismo perché il mio stato di coscienza il mio io neurale rispetto all'io biologico è il 10% il 90% fa quello che vuole la famosa memoria implicita anche cioè la memoria implicita poi è un altro affascinante capitolo lo accenderemo alla fine se riusciamo a dare un po' di vedere quanto manca manca 13 minuti ecco lo mettiamo nel vivo del perché del libro io quindi accompagnando quel giovane ragazzo col tumore della pleura da una mia amica Luisella Digna alla clinica del lavoro questa tira fra una macchinetta che tu hai anche qua che adesso ho comprato che faccio anche vedere una macchinetta semplicissima che con una luce ultravioletta dà un indice si appoggia il braccio si appoggia il braccio nudo c'è una luce che attraversa il braccio e che cosa legge legge di AGES di AGES è un acronimo per Advancing Advancing Lecation and Proverbs sono prodotti finali applicazione reazione di Maillard precipitazione complessa fra grassi proteine e zuccheri che incrostano la cellula quindi io mi trovo a 73 anni con quel valore a questo punto faccio rapidamente un idoso di insulina un idoso l'H di glicatra che è l'equivalente degli AGES voi volete avere idea di come state con i zuccheri fatevi l'inibogomina agricolenta non vi basta la cittura di giugno le cellule brustolite e che cosa brustolisce il cellulo la cottura esatto perché Maillard tra l'altro era la ricerca di qualcosa che rendesse i cibi più gustosi e scoprì questa duratura che però si verifica anche nel corpo umano perché proteine grassi e zuccheri danno luogo a questi ages queste incrostazioni che sono di attrazione che poi in sostanza che cosa scoprì da questo grafico vediamo che influenzano un po' tutte le patologie cosa scoprì aveva una sindrome etamorica quindi cos'è la sindrome etamorica aumento dell'insulina primogromina grittata elevata ma non patologica è tutto un previamente pressione alta grasso bianco addominale quindi esattamente in quella situazione una precondizione che può portare poi a tutta una serie di conseguenze per fortuna avevo ricevuto un bellissimo l'articolo pubblicato di tumori dal mio amico Giorgio Pierotti allora direttore scientifico che mi invitava ad assumere la metformina la metformina è considerata un favore con la longevità c'è un bellissimo da prescrivere diciamo secondo i dettagli solo per i diabetici e certo invece la prescrizione della sindrome etamorica quindi non è una bomba a mano certo c'è un 5% di tolleranza ma c'è uno studio aperto di Berlino chiuso da pochi mesi meh meh studio randomizzato sopra i 55 anni i pazienti in sovrappeso o donne o uomini entrano o nel braccio del random quindi placebo o nel braccio della metformina un grammo al giorno l'esito dopo 6 anni ho incontrato Berlino recentemente è totalmente a favore della metformina tu danni consideri la metformina ma certo tu consideri danni la metformina la pallotola magica mi ha cambiato la vita e mi ha salvato dal covid perché? perché mi ha ridotto l'infiammazione quindi oltre a prendere la metformina però non è finito perché calcolate che io giocavo a tennis e mangiavo la pizza allora in una pizza in una pizza ci sono 16.000 agers in un cartaccio di vita è uno 200 quindi se voi volete approfondire il tema c'è la cultura nel libro pubblichiamo tutte le tabelle della quantità di agers presenti nei vari cibi nei vari sistemi di cottura e come prevenire anche gli agers perché ad esempio attraverso la cottura attraverso i vegetali gli agers sono endogene e l'esogene anche noi dobbiamo tenere bassi e anche lì ci gioca molto l'infiammazione e la condizione di stress quindi io comincio ad assumere uno slow method una metformina all'intercessione un grammo al giorno mi ritrovo dopo un anno con l'insulinemia da 21 a 5 che cosa ho fatto? ho ridato sensibilità tutti i recettori qui dove stavo creando un'insulino resistenza me l'ho solo praticamente azzerata ecco il titolo che non è un paradosso come di giovanire invecchiando io ho ripulito le mie cellule tant'è vero che poi risalto per evitare che poi tutti corrano a coprarsi all'inforina sempre sotto controllo medico è meglio che lo prescriva ragazzi poi nel libro c'è un capitolo abbiamo parlato di fitoterapici e fitoterapici ci sono fitoterapici che lavorano sull'agricazione la berberina la berberina lavora perfettamente io ho visto un paziente ci sono ottimi prodotti oggi che lavorano oltre all'alimentazione lavorano proprio quando parliamo di glicazione avanzata la mente delle persone veramente quando si fa la glicemia glicata sono zuccheri nel sangue che dobbiamo cercare di perché i grassi ce li abbiamo nel sangue la media delle Hb glicate è di 5.6 più la tenete bassa è meglio è se andate a 5.4 vuol dire che siete proprio poveri di agis ma è chiaro che non è che cambiate dall'oggio normale la situazione se volete comunque avere un'idea di cibi come vengono cotti e preparati c'è un bellissimo app il dottor Chef che fa parte del gruppo di Silvio Spinelli che ha scritto il capitolo sulla sindrome metabolica e sugli agis e lì troverete tutto un percorso alimentare a basso contenuto di agis cioè gli zuccheri sarebbero come la benzina buttata sul fuoco ma certo vi abbiamo detto ieri che cos'è la pezza la scintigrafia con glucosio quindi io non ho fatto subito l'esame io l'ho fatto otto anni dopo non è che io ripulivo le cellule io dovevo aspettare che tutte le donne cellule che lascevano in me nel mio turno biologico fossero talmente pulite da normalizzarmi ed ecco dopo otto anni sono tornato dalla mia amica Ligna e ho fatto l'esame e ho sceso a 2.1 quindi è un livello di normalità l'area verde in basso è il livello di normalità più tenete basso quel pallino è meglio state quindi potete andare la dottoressa Ligna a fare l'esame io ce l'ho l'apparetto potete anche dire è un esame molto rapido l'alternativa come vi dico è farvi l'emoglobina agricata chiaro? perché ho comprato la macchina? perché questa macchina la Ligna l'aveva incomodato d'uso e l'aveva andata gli olandesi in parecchi centri poi alla fine hanno fatto un bellissimo lavoro su 80.000 persone che ha confermato che questa macchina è utile a leggere gli agis ha una varia è un esame molto semplice fatto in ambulatorio da te è un esame l'ha fatto tre volte si prende poi il valore più basso e sul valore più basso si segue un protocollo per entrare nei ranghi e poi ci ma io che cosa ho fatto oltre a prendere la metonina? eh beh ho ridotto la alimentazione la famosa dieta literranea che è la dieta vincente in generale si dice in realtà l'ho ridotta molto a dei carboidrati quindi una restrizione nutrizionale o calorica assolutamente una restrizione nutrizionale era l'elemento vincente detto ormai da tutti da Walter Lombo da tutti gli altri e già in mezzo internazionale diceva un alzarsi da tavola con un po' di appetito in più io ho ridotto i carboidrati al 10% in più un mangiatore di frutta l'ho ridotta perché la frutta è piena di zuccheri e quindi piano piano in 8 anni quindi scusa le famose 5-6 porzioni di frutta a giorno io sinceramente ragazzi io ho fatto quel che ho voluto fino a 73 anni però mi sono salvato per lo sport negli ultimi 10 anni ho fatto questo lavoro bellissimo grazie alla metformina grazie all'alimentazione grazie a sempre all'attività fisica adesso gioco a golf l'altro giorno con tre gradi io ho fatto quello che mi capi quindi mantengo questa realtà e quindi sono un ottoagedario che rivela proprio questa potenzialità cioè la vecchiazza non deve essere vecchiazza la bellezza vecchiai a essere c'era la citazione prima non potete evitare di vecchiare ma non necessariamente diventare vecchi infatti è bello anche perché qual è la bellezza poi della mia età l'esperienza io quando vedo un caso clinico difficilmente non l'ho già tutto investito di interesse e di interpretazione perché so tutto ho visto di tutto dalle cose più gravi con il covid ci sta spiazzando io ho visto un caso con delle pusse febbrili ogni due mesi per i cardite non si sa non si sa spero che sia legato al covid ho fatto una ricerca sull'immunoglobinare grazie al mio amico immunologo e vediamo tra l'altro quello che vedete è proprio l'attacca di come ero io alla fine di 12 giorni di emergenza una piccola infiammazione dove c'è la freccia vedete la polmonite infiammatoria con cosa sono guarito il clexane che la calceparina l'ho fatta già in sesta giornata sono entrato a Monza a San Gerardo in decima giornata con tre tavoli di fiebre aprimendo vena di cortisone sono guarito quindi quali sono i due cardini vincente carceparina e cortisone perché è infiammazione quindi infiammazione che cosa induce aggregazione più astirica ai micritrombi quindi fare il clexane subito non ha controindicazioni c'è paura perché vengo in base evidentemente in famiglia non è abituato per in ospedale queste cose si fa due minuti io non corro rischi se faccio il clexane a uno basta che lo sia scoagulato già chiaro ma se uno normale anche se piglia l'aspirina gli faccio il clexane l'aspirina è molto meno la tachipirina sul covid nei giorni in cui si è paucisintomati se poi parte la febbre via decisi con cortisone al dosaggio scalare se in vai all'ospedale si fa questo ma arrivare prima di finire in rianimazione l'altro giorno mi ha chiamato c'era uno che sette giorni aveva 30 ore di febbre con solo tachipirina vabbè mancanoci poco meno di 5 minuti tu volevi chiedere qualcosa sì prendiamo il discorso del mitocondolo l'abbiamo sviluppato ieri ma guardate quante cose fa il cammino è affascinante tutte queste cose che vedete si possono ridurre camminando addirittura in relazione alla quantità di cammino giornalino oggi ci sono tutta una serie adesso c'è un bellissimo tema il tema dei primi mila giorni di vita il primo dei mila giorni di vita è un tema fondamentale se volete divertirvi andate su youtube e guardate il mio film fatto da un regista bravissimo Enrico Colombo conversazione sul cervello di Enzo Soresi e ti sviluppa il tema della costruzione del cervello noi siamo l'unico bambifico che quando nasciamo non ha un cervello definito quando entriamo nel mondo il cervello pesa 700 grammi diventa un chilo e quattro all'interno di tutte quelle cose che vedete quindi io ho fatto fare un capitolo a Gianfranco Trapani pediata sull'importanza della dieta ai primi dei giorni perché la dieta può modificare addirittura tutto c'è l'esempio di due topi obesi allora se un topo obeso selezionato per studi rimane incinta e io gli do una pappa ricca di metili la metilazione blocca il DNA e nasce un topo obeso famosa epigenetica e quindi vedete l'epigenetica l'ambiente esterno può addirittura attivare o disattivare questa bellissima grafica tra l'altro l'abbiamo riprodotta anche al nostro libro certo nel libro ci sono 5 disegni molto belli di una mica olandese tra l'altro che sviluppano tutto il tema che sintetizzano tutti questi l'altra cosa importantissima che modula il cervello il microbiota intestinale è per finire diciamo in maniera interamente interessante l'importanza della relazione nel nostro capitolo c'è un capitolo sulla relazione fatto da Fabio Allegri molto bello ma l'accudimento è la premessa della nostra longevità lo studio più bello si chiama Longevity iniziato nel 38 a Howard c'era anche Robert Kennedy che cosa sono arrivati a dire dopo 80 anni che ciò che dà la maggiore longevità è la relazione molti anni fa facciamo questo convegno perché amare i bambini cioè il tema della relazione nei primi anni di vita esatto quindi questa in sostanza è l'ultima diapositiva che sviluppa tutto il tema della prevenzione dell'antiaging da dove deve partire tra l'altro io collaboro con l'amico Beretta una bellissima diciamo iniziativa che è già operativa Verdeio si chiama Solongevity è proprio una medicina che affronta queste tematiche le sviluppa e cerca di capirle molto prima di quando si abbia il danno quindi diventa veramente una medicina anticipativa come dice Beretta medicina preventiva come dico io o medicina integrata perché sfrutta anche per esempio loro hanno un integratore che lavora verso l'ipotesi di maggiore sopravvivenza e minore infiammazione posso chiudere le diapositive Soresi? si così sì qua l'ipotesi 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 Grazie a tutti.